salve a tutti franzo al vostro supercorri si torna la nostra carriera di fifa col milan abbiamo giocato 15 partite finora purtop 14 sono su fruit lab quindi andatevelo a recuperare là però siamo a 39 punti con l'intero a 36 l'atalanta a 36 nella classifica marcatori c'è un ibra a 17 col conto i 12 zapate mobile purtop abbiamo braimi diaz infortunato si gioca col bologna si gioca col bologna ragazzi una partita che noi dobbiamo cercare di vincere in tutti i modi come al solito vi dico iscrivetevi al canale lasciate un bel like seguitemi su tutti i miei social sul canale telegram delle offerte supercorris offerte amazon dove tutti i giorni mettono le migliori offerte dei videogiochi e tecnologie di amazon c'è il canale ufficiale supercorris 84 di telegram per le news in anteprima c'è fruit lab e c'è twitch andiamo a vedere pure un po' che cosa succede qua brian si è infortunato tu sia nella spalla straferici cinque giorni vuole ringraziare e vabbò raga ma dell'email di stipirla non mi interessa andiamo subito a fare la nostra partita allora vabbè diaz lo leviamo cadabra conti non mi piace ho sbagliato mettiamo messias e mettiamo bolo tourè e ho capito ma chi è il giocatore indisponibile cioè non lo riesco a capire ma può essere au fa tutte quante sto cazzo di cose ce l'hanno e niente ragazzi è buggato non mi fa giocare ci sta soltanto diaz l'abbiamo levato e qua ma adesso mi fa mettere la mi fa mettere la formazione che dice lui praticamente giochiamo a casa ci giochiamo questi cazzo di bug guarda là guarda là va sale maker scalabria tutta gente che a me non mi piace oh passa sale però eh però è fallo ciccio basti la cornice guarda le squadre sono pronte a scendere in campo occhi aperti perché potremmo assistere a uno spettacolo memorabile mannaggia e vabbè ragazzi il primo tempo ce lo facciamo così il secondo tempo balzer di sostituzione avanza al bologna recupera il milano ma siamo troppo lenti quello è il problema sostanzialmente contrasto efficace vabbè oh meccone amagnano la para avanza il milan che aspetta i nuovi ingressi ecco qua bene a star meno male se no vaffanculo oh paramaicone e cambia il milan oh esce tamori non esce più Ternanez Rebic a giramento di Rebic classico no cazzo si va a frega l'ultimo secondo Rebiccione su Mauro su Mauro chi è questo? la prende magnano retropassaggio di Calabria riparte il milan ecco Raffalino Leao che va oh come va Raffalino Leao come va Raffalino Leao può colpire da lì ma dai ma vaffanculo che si ma levati dei coglioni ma porco zio ma che cazzo di che si sempre in mezzo al cazzo sta quando non c'è stacco su cazzo si capito qua oh e vai pure rimessa al fondo vai batte maicone chi ha due squadre che giocano un calcio propositivo preferiscono attaccare piuttosto che difendersi lo spettacolo dovrebbe essere assicurato Calabria oh Cadabra oh che giocata poteva fare un passo in più e segnava pazzesco che fa Cadabra Calabria Calabria che cazzo va a fa Raffaele out che si si oppone al tiro prova a farsi perdonare Frenchino che si non ci riesce avanza avanza il Bologna che sarà sarà ehi a me ma vedete eh no dai ha bloccato la mia oh ha bloccato il mio poter tirare la palla via sti bastardi però Tomori Chiaer esce il Milan Sandrino Tonali Messias che si Frenchino che sarà che si a giramento oh Messias troppo piano eh rarà sto campo ci sta penalizzando a noi ma ci siamo Messias cadabra fa scorrere cadabra no para oh Raffaelino Leao la sblocca Raffaelino Leao la sblocca eh yes eh yes ragazzi guardate là guardate che cosa Safari recupera la palla e bam castiga il Bologna il Barcellona stava a dire ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro 1 a 0 Leao meravigliao oh no 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 eh sì è stato molto bravo qui il difensore che ha risolto cadabra madonna quanto sta in forma oggi cadabra oddio cadabra oddio ibra oddio ibra supremasi che cosa fa cadabra un'azione da quindicenne neanche da ventenne pazzesco pazzesco la raddoppia lui guardate la scatta per tutto il campo arriva flash il portiere bam supremasi 2 a 0 non abbiamo anche le sostituzioni noi jebba detto anche Zaza Ibra ehi Kernanez Gipinza avanza il Milan Messias vede ibra indemoniato ci vuole l'esorcista oggi oddio che fare bicione oddio che fare bicione oddio anche una deviazione la para sempre il solito schema qua 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 ma dai guarda il cazzo di coglione scoruspchi i compagni lo cercano costantemente le arm scoruspchi e lo sottolinea anche il dato dei tiri in porto tra le altre vince il primo tempo 1.2 a 0 si conferma è in testa la classifica santo Van Basten che guarda dall'alto via secondo tempo 18esimo gol per Cadabra il calcio all'inizio del secondo tempo oh Messias ahhh fallo contasto duro per i brola recupera Frenchino che si oh che azione del Milan parte Teo parte Teo no la mette in mezzo azione pazzesca c'è il tocco corto c'è il tocco corto oh fallo mano fallo di mano ma è cazzo a me ma che te fu la cish prova la botta prova la botta pazzesca non va leao Hernandez oh Rebic ho Ibra oh non è burdel non va grande calcio protagonista sulle frequenze di ATV con questo match che promette spettacolo no si fa fregare Ibra cazzo ragazzi troppo leziosi ah eh gol però infatti era fuori gioco molto netto infatti che cazzo fa questo esce fuori il Milan Frenchino che sarà che si Rebic vedo un taglio pazzesco di Messias se la fa fregare Milan cattivo oh Ibra oh Ibra oh che parato si incazza con Redesposite in panchina scegli il tocco corto Ibra ecco il gol rosso nero Suprema si Ibra cadabra assist sontuoso di Rebiccione e Ibra gliela molla guardate là solito schema Rebic ce la prende per solta temporeggia vedi il movimento smarcante bap non ci pensa due volte doppietta di Ibra diciannovesimo gol in campionato quest'anno ne fa cinquanta ha detto a novantasette anni hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3 a 0 troppo forte il Milan per il Bologna jebba e recupera franchino che si messias si aggira nooo questa sarà buona cazzo avanza il Bologna ma il Milan c'è chi è questo esce il Milan Messias vedi il cadabra va cadabra va cadabra oddio cadabra oddio cadabra fammi sentire male stasera e mi fa sentire male cadabra ah 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 supremasi ventesimo gol in campionato per Ibra supremasi sontuoso cadibra guardate là va tutto da solo va tutto da solo resista 27 cariche Fulmi a Skoruspki una partita a senso unico 4 a 0 per loro ah yeah e il Milan continua con le sue con le ade ai 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 nooo che autogol di merda però ma che culo va Ma che cazzo ho fatto? Guarda che cazzo Ma chi è? Rebic Porco zio Chiar Oh Cadabra Vedi Raffaelino Leao Solita giocata di Raffaelino Oh Traversa di Raffaelino Ma che cazzo hai fatto? Che si Chi è? Eh c'è il Milan di nuovo Palla al piede Possono recriminare Contro la cattiva sorte Per l'occasione di poco fa Il legno ha evitato un gol Che sembrava già fatto No Che si mangia Che messias Ha cercato di mostrare i muscoli Sì però gli dai l'ammunizione Di darci il fallo cazzo Cadabra Oh Raffaelino A vuoto Saltemakers Eeeh ma è cone Ci sta alla porta Oddio Oddio che fare Che fare Biccione No Cazzo Azione pazzesca Basta che viravo Lai in mezzo Era gol Riparte il Bologna 82esimo Eeeh Si mette a terra Ma è cone Per perdere un po' di tempo Eh c'è il Milan Andate che il Barcellona Di 29 anni fa Oh Ibra Oh Ibra Oh Ibra C'è non ho più parole ragazzi Quattro gol di Ibra 21esimo in campionato Guardate là Fa passare la palla 5-1 e mezzo Viene preso da due Tocchetto Tac E segna cadabra Davvero di una lunga E adesso è finita È una distanza profondissima Quella che separa le due scuole È molto profondo Può sfruttare lo spazio Lungo la corsia E il Milanesso non attacca più Si riposa C'è il riposo per il Milan Oh Maicone Maicone Vedi Raffaelone Leao Che va Vai Leao Perdi tempo Perdi tempo Leao Perde tempo Leao Oh Perde benissimo Oh Cazzazione pazzesca Bastardi Tre punti ottenuti Con una prova Di grandissima sostanza Si inchinano tutti A cadabra Supremacy Supremacy Raga Supremacy Voglio vedere cadabra Non lo voglio vedere più Andiamo a vedere ragazzi La classifica Ma tanto vincono sempre Pure loro quindi 3-3 tra Fiorentina e Venezia Sti cavoli Andiamo a vedere la classifica Cosa cita Oioioioi Ah no però ci abbiamo partito in più Ecco perché Vabbè ragazzi Noi intanto il nostro l'abbiamo fatto Quindi va benissimo così Spero che vi siete divertiti con questo video Vi appuntamento ai prossimi video Il vostro super corris the gamer Ciao Ciao